Digital Meet è oggi nel Veneto l'unico luogo di innovazione, nel senso che è stato negli anni riconosciuto da chi fa innovazione il luogo nel quale, oltre che a raccontare l'esperienza di successo e quindi a cercare di contaminare, è anche il luogo nel quale i cervelli che fanno innovazione si contaminano l'uno con l'altro, si danno forza e quindi comunicano il più possibile fra di loro e anche agli altri che cosa oggi è opportuno fare specialmente nell'ambito dell'innovazione digitale.